Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi ma è il paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto Parola del Signore La solennità di Pentecoste conclude il tempo pasquale Pentecoste come sappiamo vuol dire 50 50 giorni dopo la Pasqua e questo cammino di glorificazione che è iniziato con la resurrezione di Gesù è proseguito con la ascensione quindi diciamo con la glorificazione di Gesù seduto alla destra del Padre oggi arriva alla sua pienezza con il dono dello Spirito Gesù risorto, è sceso al cielo dona, manda lo Spirito il suo Spirito che aveva promesso più volte durante i discorsi della cena nel Vangelo di Giovanni ora lo effonde sulla sua comunità perché continui la sua missione perché questa comunità sia il suo corpo come lo Spirito aveva generato il corpo fisico di Gesù nel grembo di Maria e poi lo aveva guidato in tutta la sua missione in tutta la sua vita ora lo Spirito continua a generare i figli della Chiesa e a generare il corpo di Cristo che è la comunità e a guidarla e a spingerla sulle strade del mondo a continuare la missione di salvezza di perdono, di riconciliazione che Gesù ha incominciato senza lo Spirito la Chiesa sarebbe un'organizzazione più o meno bella o brutta dipende dai punti di vista sarebbe una la missione sarebbe una propaganda insomma senza lo Spirito la Chiesa si svuota della sua bellezza della sua vita lo Spirito come ricorda il Vangelo anche il Vangelo di oggi lo Spirito vi insegnerà dice Gesù ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto ricorderà qui non è solo ecco riportare alla mente ricordare le parole da un punto di vista della memoria ma ricorderà vuol dire vi farà sentire vive vi renderà concrete per all'oggi le parole che io vi ho detto ecco lo Spirito è quello che proprio fa sentire la parola di Dio come qualcosa di vivo e non più come solo un testo antico che è giunto fino a noi lo Spirito dà vita alle parole di Cristo perché oggi siano ancora parole di vita parole che guidano parole che ispirano e poi lo chiama con un altro nome difficile una parola greca il Paraclito cosa vuol dire Paraclito vuol dire l'avvocato difensore noi lo traduciamo anche a volte con consolatore ma l'avvocato difensore cioè quello che sta dalla tua parte quello che ti difende sempre da chi ti difende ti difende da Satana che vuol dire appunto l'accusatore colui che accusava i nostri fratelli dice l'Apocalisse cioè che ricorda a Dio i nostri peccati ecco il Paraclito il consolatore l'avvocato difensore dice a Dio invece il sacrificio di Cristo dice a Dio che il suo figlio ha dato la vita per me e per te per questo ci difende non ci difende per i nostri meriti che sono sempre pochi e insufficienti le nostre buone azioni che cerchiamo di fare ma ci difende ricordando ecco ancora una volta rendendo viva davanti al Padre il sacrificio di Cristo quell'amore che continua a perdonarci a rinnovarci a spingerci alla missione chiediamo oggi allo Spirito Santo che davvero come dire difenda i nostri cuori dallo scoraggiamento dalla delusione dalla disperazione dalla fatica di credere ma che accenda invece nei nostri cuori come dice la liturgia il fuoco dell'amore vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce lo chiediamo per noi per la Chiesa e per il mondo e per la Chiesa e per la Chiesa